Krampus, quest'ultimo è un demonio, sconfitto però dal santo e quindi successivamente costretto servirlo, i cacciatori, i Krampus Hunter lo cercano da un anno, ora però i cacciatori hanno trovato le sue tracce proprio vicino al nostro abitato, ci giungono notizie che sia stato avvicinato così tanto da essere probabilmente preso. Eccoli i cacciatori, sembra che l'abbiamo preso nella gabbia, cosa c'è? L'abbiamo preso, abbiamo fatto fatica, abbiamo avuto freddo, fame, ma alla fine l'abbiamo preso, io so che c'è una ricompensa per chi portava qui, chi è qui che comanda, voglio parlare con lui, sembra che facciano tanta paura invece, alla fine non sono mica granché, non è granché, l'abbiamo preso facilmente, dai dai, dov'è? sento, sento un valo, rinchiudendovi di questa insulsa tattia, veramente credente di avermi catturato, chiamati, non capite che io l'ho permesso, io vi ho permesso di portarmi qui, in questa piazza, in mezzo ai nostri segni, per guidare i miei fratelli, fino a qui, per un volo in fine, ad una guerra, tra luce e l'ospedà, che dura da profondi. non c'è più nulla, che qualcuno possa calare, per un volo in fine, rinchiudendovi, sono vicini, stanno vivendo, scappando, 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 non c'è più nulla, non c'è più nulla, non c'è più nulla. Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti